ciao ragazzi bentornati sul canale di mtv mag ma voi vi siete mai chiesti cosa sono quelle sigle che vedete su alcuni itinerari su alcune mappe s1 s3 s5 la scala di difficoltà beh oggi andremo esattamente a vedere di cosa si tratta ma la domanda principale è questo secondo voi è raidabile ciao ragazzi bentornati sul canale di mtv mag io sono stefano uno degli istruttori della scuola di mountain bike epic trail e da pochissimi mesi siamo anche partiti con la sezione viaggi ma bando alle ciance ragazzi siamo qui per parlare di single trail scala se non sapete di cosa si tratta vi invitiamo a seguire fino in fondo questo video perché così avrete un elemento in più anzi più elementi per poter valutare e organizzare le vostre prossime uscite in mountain bike ebbene sì ragazzi perché quando andiamo a pianificare un'escursione è bene sapere a priori le difficoltà che andremo a incontrare ma anche le varie tipologie di sentiero questo perché per non incorrere in spiacevoli situazioni tra i molti sistemi di valutazione dei sentieri merita sicuramente attenzione la scala del single trail ovvero scala sts che peraltro è presente ultimamente anche un po in tutte quelle che sono le applicazioni o le varie descrizioni degli itinerari mountain bike nata in germania e in progressiva diffusione con l'obiettivo di offrire un sistema standard uniformemente applicabile per la classificazione delle difficoltà puramente tecniche di un trail di un single trail un po come accade nei sistemi di valutazione delle difficoltà tecniche sulle vie quindi con questo obiettivo la scala sts comprende 6 gradi di difficoltà da s0 il più facile a s5 il più difficile e tiene conto esclusivamente delle difficoltà tecniche infatti i parametri utilizzati per stilare il grado di difficoltà sono i seguenti tipologia di terreno ovvero scorrevolezza grip e composizione geologica tipo di ostacoli pendenza tipologia di curve e capacità del rider è bene sottolineare che non vengono presi in considerazione parametri come impegno fisico esposizione del trail se il trail è bagnato o non è bagnato eventuali pericoli presenti sul trail che possono comprendere anche la fauna velocità di percorrenza del trail illuminazione o altri limiti personali di ogni rider ragazzi cosa facciamo partiamo da s0 da s5 perché se parto da s0 probabilmente il grado di attenzione potrebbe calare allora sapete cosa vi dico partiamo da s5 ovvero il parametro più difficile di tutta la scala il grado s5 è caratterizzato chiaramente da un terreno estremamente tecnico spesso in contropendenza sono presenti curve a gomito ma curve a gomito molto strette dove non c'è spazio di manovra quindi anche nel caso di manovre trialistiche come il nospresso spostamento della ruota anteriore spesso non sono possibili lo spazio di frenata è molto breve e spesso è anche assente questo cosa ci fa pensare ragazzi che potrebbe essere quasi una via ferrata un sentiero roccioso che scende infatti il grado s5 dice che potrebbe essere possibile dover utilizzare le mani per aggrapparsi e superare un determinato punto la scala sts non prende in considerazione il discorso di salita o discesa è il grado di difficoltà del segmento del sentiero in certi passaggi potrebbe essere difficoltoso anche camminare con la bici in spalla ecco che quindi questa tipologia di sentiero è adatta solo a rider estremamente esperti ma anche capaci in montagna infatti solo i rider più esperti azzardano a chiudere qualche passaggio sul trail s5 è bene sottolineare la pendenza media di un s5 è assolutamente superiore al 70 per cento ricordatevi 70 per cento perché sarà un parametro che ci determinerà la differenza tra s5 e udite udite s2 ma andiamo con ordine passiamo al grado s4 in questa tipologia di sentieri saranno presenti grandi rocce radici anche abbastanza importante quindi grossi gradoni e il grado di pendenza sarà sempre molto estremo quindi sarà difficile anche riuscire a fermarsi questa tipologia di sentieri è anche caratterizzato particolarmente non compatto quindi scivoloso mi vengono in mente i ghiaioni delle dolomiti dove anche se freni acquisti velocità qual è il segreto avere un'ottima tecnica di guida e padronanza del mezzo questo vuol dire che quando freniamo sappiamo incidere nel terreno e superare il discorso di fondo non compatto arrivare con i tasselli nella parte sottostante alla ghiaia quindi dove è più compatta e dove riusciamo avere grip di frenata bene per questa tipologia di sentieri ragazzi sarà fondamentale padroneggiare al meglio tecniche trialistiche ovvero ottimo equilibrio non stress perché saranno presenti curve a gomito dove il non stress sarà obbligatorio chiaramente per portarla a casa e non fare tutto il pezzo del trail a piedi spostamento della ruota anteriore un argomento che non trattiamo spessissimo ai corsi perché è un argomento da s4 ragazzi un argomento tecnico ma se ce li state seguendo sui nostri canali social e qui ve li lasciamo avete visto che di recente abbiamo fatto un bellissimo epic camp deluxe in cui era presente un clinic no stress e tutto ciò che gira intorno al no stress ma non solo è un camp che abbiamo deciso di effettuare solo su single trail alpini quindi quell'ambiente alpino che a noi di epic trail piace tanto ma che stiamo vedendo che piace sempre di più anche a voi bene lì è il terreno ideale per imparare certe tecniche certo è che bisogna arrivarci preparati con un bel bagaglio tecnico ma detto questo ragazzi diciamo che anche per s4 prevede pendenze di media superiori al 70 per cento ora passiamo alla categoria s3 un ottimo obiettivo per la maggior parte dei rider che ha una bici full è il trail forse un po più comune per chi osa un pochino nei boschi o in montagna infatti è caratterizzato da rocce e radici in successione sarà difficile su questo tipo di terreni trovare dei tratti scorrevoli spesso le pendenze sono superiori al 70 per cento però sentite come spesso sono superiori quindi non per tutto il trail s3 la pendenza sarà superiore altra cosa molto interessante che su un trail s3 non è assolutamente prevista nessuna tecnica trialistica questo cosa vuol dire che i tornantini ci sono perché la categoria s3 prevede anche tornanti a gomito però sono affrontabili senza la tecnica in questo caso entriamo un po nel dettaglio del no express quindi in conduzione questo cosa vuol dire che ci sarà spazio di manovra e il dislivello tra ingresso del tornantino e uscita del tornantino non sarà così importante da doverci obbligare a fare un no express ecco in questa categoria è previsto di saper frenare con un'ottima precisione sentite che bella parola un'ottima precisione vuol dire avere un'estrema consapevolezza di dove mi andrò a fermare su un terreno non sempre compatto questo è un ottimo spunto su cui lavorare perché per fare velocità è facile il problema è rallentare con efficacia e sicurezza saranno previsti anche dei gradoni ecco qui è interessante come fanno la divisione in questa scala nell'asse 4 il gradone sarà a rischio di toccare con la corona infatti consigliano un bash per le corone è stata scritta un bel po di tempo fa quando i bash andavano ancora molto di moda però ultimamente stanno tornando e secondo noi è un ottimo strumento per salvaguardare catena e dentini della corona ragazzi bene nell'asse 3 sono previsti gradoni leggermente più bassi questa cosa vuol dire che in un s3 difficilmente rischieremo di toccare con la corona dove sta la differenza che se io accompagno la bici quindi vado a copiare un gradone fintanto che non rischio con questa manovra di toccare con la corona perfetto ma se accompagnandolo rischio di toccare ecco che serve una tecnica ulteriore ovvero la tecnica che abbiamo visto in un video precedente ve lo lasciamo qui sopra anzi forse qui sopra ragazzi quindi come affrontare un gradone quindi servirà interagire con la mountain bike proprio per allontanare il momento di impatto della ruota anteriore e diminuire appunto l'angolo in cui andremo a toccare ad impattare col terreno successivo al gradone ecco qui abbiamo già una differenza tecnica avete visto come hanno classificato in maniera molto facile due tipologie di gradoni quindi nell'asse 3 non toccheremo con la corona quindi ecco che avremo bisogno di un po meno tecnica sull'asse 3 ma comunque richiede una tecnica più che avanzata bene ragazzi siamo arrivati all'S2 S2 è forse ancora più comune dell'S3 soprattutto per chi non frequenta terreni chiamiamoli da enduro quindi molto discesistici e improntati alla discesa l'S2 è un sentiero già approcciabile a un buon rider ecco nell'S2 sarà facile incontrare sassi di diverse dimensioni radici e scale però il tutto poco impegnativo diamo un parametro a questo poco impegnativo allora intanto iniziamo a dire che le pendenze saranno al di sotto del 70 per cento può essere che qualcuna ci arrivi ma bene o male la media è sotto il 70 per cento quindi dove ci sono gradoni o scalinate se noi togliamo un po di pendenza diventa tutto un po più facile in più chiaramente scalinate e sassi non saranno più alti di 20 centimetri proviamo a dare un parametro noi non è che c'è scritto ragazzi però ecco saranno gradoni affrontabili sui quali è anche facile fare della didattica in sicurezza quindi iniziare i primi approcci con questi movimenti sulla mountain bike quindi non subire i colpi della mountain bike dati dal terreno ma iniziare a interagire con sicurezza poi saranno presenti anche curve che tenderanno all'essere a gomito ma saranno curve sempre fattibili in conduzione ecco infatti ragazzi che in questa categoria sarà essenziale saper dosare con misura la frenata perché siamo già su un terreno che se sbaglio la frenata rischio di impuntare o di scivolare e dovremo avere anche una buona interazione con la bici quindi appunto come dicevamo poco fa saperci muovere sulla bici interagire con essa non essere statici altrimenti il trail diventa pericoloso e nella scala single trail viene detto che la tecnica necessaria per l'S2 è avanzata quindi non prendiamo sotto gamba l'S2 perché è quello che sta un po a metà leggermente sotto la metà no della nostra scala che ha sei parametri ecco in questa categoria sarà possibile trovare una tipologia di fondo non sempre compatta andremo a trovare piccoli ostacoli come radici sassi qualche canaletta scavata dall'acqua oppure appunto proprio canali di scolo artificiali dell'acqua ecco questi vanno a dare già delle piccole caratteristiche tecniche al terreno qui sarà essenziale avere le capacità di guida basilari ovvero i fondamentali quelli che trovate nei nostri corsi epic lab e trail progression qui iniziamo proprio dai fondamentali spesso mancanti anche nei rider più evoluti ma in più viene scritto che sarà necessario influire sulla traiettoria attraverso lo spostamento del corpo noi ci aggiungiamo anche e l'interazione con la bici ecco questo è già un altro bel parametro no dobbiamo saper influire sulla traiettoria quindi può essere che il trail abbia anche degli ostacoli magari un po più grossetti ma però che non ci impediscono il passaggio perché basta schivarli qui in S1 le pendenze non superano il 40 per cento quindi ecco che anche la velocità che potremo prendere se molliamo i freni non sarà smodata quindi comunque una buona abilità di guida farà sì che si riesca a gestire la bici quindi ecco che anche qui tecniche basilari di guida ci permetteranno di gestire la bici ragazzi siamo arrivati a S0 S0 io non l'ho mai visto scritto da nessuna parte però andiamo ad analizzarlo insieme allora ragazzi qui abbiamo un terreno compatto che non presenta nessun ostacolo pendenze lievi se non addirittura privo di pendenza curve ampie e non è richiesta nessuna abilità particolare di guida se non quella chiaramente di avere l'equilibrio per poter stare sulla mountain bike mi vengono in mente quelle che possono essere strade forestali o ciotolati che non sono single trail però la tipologia di terreno è quella a volte la si può trovare anche sui sentieri un tratto estremamente facile una pista ciclabile sterrata per esempio ecco S0 ora che abbiamo analizzato tutti questi sei parametri e se ci avete seguito fin qui grandissimi ragazzi spettacolo io ultimamente se ci fate caso ragazzi su training camp che vi invito andare a scaricare training camp è l'applicazione di mtb mag che vi permetterà di esplorare tantissimi nuovi percorsi e la cosa bella ragazzi è che gli itinerari prima di essere pubblicati sono approvati da dei moderatori quindi diciamo che si cerca di caricare solo materiale di qualità ecco se andate a vedere nelle descrizioni io di solito scrivo difficoltà media del trail S2 difficoltà massima S4 cosa vuol dire che il trail se uno ha le competenze per l'S2 vai a farlo perché comunque è nelle tue competenze nelle tue capacità tecniche però attenzione perché incontrerai sicuramente solo alcuni passaggi che non ne determinano l'infattibilità di tutto il trail però solo alcuni passaggi S4 quindi può essere che ci sia un tratto con quattro tornantini molto stretti ebbene lo faremo a piedi ecco che così non ci priviamo di un itinerario di un trail l'importante è avere le capacità S2 ovvero sapersi fermare con precisione prima del tratto che non sappiamo affrontare bene ragazzi siamo giunti al termine anche di questo episodio anche il sole sta tramontando mi raccomando valutate bene le vostre uscite fate tutto in sicurezza e divertitevi il più possibile non superate i vostri limiti quando il trail non lo permette proviamo proviamo a farlo ragazzi se questo video raggiungerà almeno sparo alto è in mille like faremo il video sulla fermata in sicurezza sui terreni assolutamente impervi quindi ragazzi dipende da voi ciao ci vediamo si tre un abbraccio ciao ragazzi